Gli Stati Uniti come grande potenza militare, gli Stati Uniti che decidono di lanciare le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki, ma gli Stati Uniti che decidono anche di contribuire alla ricostruzione dell'Europa. Ora, in questi anni di presidenza Trump, rimane da capire quale sia realmente la volontà degli Stati Uniti. Pare più evidente forse il desiderio di distruggere che il desiderio di ricostruire. Mi piace perciò ricordare una grande figura di Presidente, forse un po' cancellata nella nostra memoria collettiva, eppure così importante e un termine di paragone assai utile per capire come sono cambiati, in cosa si stanno trasformando gli Stati Uniti da medica.